bella gente e benvenuti in questo nuovissimo video oggi siamo qua su youtube sul canale ufficiale di minecraft signori carissimi oggi sono qua per farvi vedere il trailer si della 1.16 questo qua o per meglio dire proprio il trailer principale in questo momento del canale di minecraft sapete bene come ho seguito la 1.16 negli ultimi giorni le ultime novità e insomma sono uscite davvero tante cose ma principalmente ragazzi sono qui per parlarvi di 1.17 di già dopo pochissimi giorni dall'uscita di minecraft 1.16 che è uscita a martedì 23 giugno oggi sono qua per parlarvi di già di 1.17 prima direi di guardarci questo minuto e 23 secondi di official trader di minecraft nether update vediamo un po' vediamo un po' allora entrano giustamente nel nether abbasso un pochino l'audio entrano giustamente nel nether come avete potuto vedere e vediamo che si trovano davanti anche se ovviamente so cosa aspettarmi eccolo infatti che bello hanno messo la respawn guardate sono respawnati ma sono morti subito quindi non ha contato nulla ok con l'oro il piglin va d'accordo sta nominando il nether gold ore arriva un gust dalla soul sand valley immagino che bello l'armatura in netherite signori se la faranno chi lo sa ho qualche dubbio in merito ma attenzione udite udite eccolo qui volevo arrivare proprio a questo punto un attimo prima delle schermate cinali che purtroppo vanno a interrompere quello che vi voglio mostrare signori cari il nether update il trailer del nether update finisce con una scena finale molto 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 sospetta viene inquadrata qua una miniera una miniera che per essere che vuol dire non è nulla la solita miniera di minecraft beh sì ma attenzione allora signori non so se sapete bene però si parla molto volentieri di cave update si parla anche di end update si parla di bion update ma si parla soprattutto quello che forse aspettiamo di più il cave update l'aggiornamento delle caverne di minecraft e questa ultima speculazione finale di minecraft nether update 1.16 ci lascia vedere questa schermata qui finale e onestamente secondo me non è un caso può essere una coincidenza ovviamente ma secondo me non è un caso perché il trailer portava tranquillamente finire di qui anzi per essere aveva oltre che più senso era più effetto cioè più effetto scenografico che la scritta nether update comparisse in questo punto però hanno deciso di non farlo là dentro ci sarà un portale del nether eventualmente e qua abbiamo una caverna ragazzi wow difficile dirlo ma secondo me possiamo essere più o meno direi davanti all'avvertimento del cave update di minecraft 1.17 secondo me non è una coincidenza andiamo ad analizzare però un pelino assieme allora 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 questa sembra una mineshaft e fin qui ci siamo tutti vediamo innanzitutto le rotaie là c'è il minecart forse con sopra qualcosa vabbè però la forma questa è delle mineshaft le ragnatele insomma c'è poco da dire è quella per forza ma da questa parte io non lo so eh però ecco ora c'è la luce noto una piccola differenza che magari è solo un effetto diciamo di luce che mi rende male la scena però non lo so questa mineshaft qui oltre che fuori uscire un carrello di tnt lì vedo ben volentieri che questa striscia qua sembra praticamente un percorso per un minecart un percorso singolo per un minecart sostenuto da delle sorte di fence di oak in orizzontale invece che verticale quindi disposte come uno slab sostanzialmente attaccate al muro che tengono su lo slab della rotaia qua sopra infatti questo qui è un chiaro percorso di rotaie se non lo so sicuramente non è che noi cerchiamo un cave update nella quale aggiungano delle fence orizzontali dei percorsi con minecart no non vogliamo tutto questo però può essere un indizio al cave update soltanto la scena anche adesso sono andato a cercare lago nel pagliaio il pelo nell'uovo per vedere se ci fossero delle possibili novità di minecraft 1.17 però onestamente mi basta soltanto vedere l'immagine finale di questo trailer con l'aggiornamento delle caverne con le caverne onestamente basta questo poi le novità e tutto le vedremo negli snapshot inoltre qua c'è anche una fornace e una crafting table però non so se poi le ha fiazzate eventualmente un player o qualcuno forse le hanno fiazzate i player di prima all'interno del portale perché non so se vi ricordate ma sono sbucati prima nudini poi sono apparsi con l'armatura in ferro poi con l'armatura in oro insomma avevano un equipaggiamento dalla miniera potrebbero averlo preso se vogliamo andare a seguire la lore però non lo so io ragazzi spero vivamente che questo sia un piccolo spoiler del minecraft 1.17 cave update lo spero vivamente e nel caso lo seguiremo ovviamente assieme vi invito quindi a iscrivervi al canale e attivare la campanella perché inizieremo a parlare di minecraft 1.17 nel breve termine penso che vi porterò anche un video inerente alla 1.17 a come potrebbe essere eventualmente l'aggiornamento del cave update se avete comunque altre idee altre qualcosa che sarebbe diciamo da aggiungere alla cave update o comunque all'aggiornamento di minecraft 1.17 che secondo voi che cosa ci porterà fatemelo sapere con un commento fatemi sapere che cosa ne pensate di questa immagine e di tutto quello che comunque vi ho detto che per essere poco ragazzi la 1.16 è uscita da 3 giorni 3-4 giorni però insomma è quello l'unica cosa che effettivamente abbiamo va bene detto questo signori spero che il video vi sia piaciuto vi invito a lasciare un bel like iscrivervi al canale e commentare condividete anche il video con tutti i vostri amici che giocano a minecraft passate anche dalla descrizione in cui trovate il link al gruppo telegram, sito di instagram e al sito della multigore che è la mia community detto questo signori da Enrico è tutto alla prossima ciao ragazzi ciao 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 ciao